Il viaggio di oggi ci porta alla scoperta di una regione bagnata da due mari, a ovest il Martirreno e a est il Mar Ionio, a due province, potenza a capoluogo di regione, in materia proclamata Città della Cultura Europea 2019. Focalizzeremo la nostra attenzione sull'area sud, esattamente l'area del Parco del Pollino, e lo faremo viaggiando insieme al sindaco di San Severino Lucano, a cui io do il benvenuto, Franco Fiore. Buongiorno sindaco. Ciao e buongiorno a lei. Il Parco del Pollino è il parco più grande d'Italia, che si estende su una superficie di 193 mila ettari all'incirca e che comprende tre province, Cosenza, Potenza e Matera, perché riguarda sia la Basilicata che la Calabria. Una serie di biodiversità incredibili, di prodotti di mare, di prodotti di terra, veramente dell'entrotera, di montagna, cioè veramente tutto un parco a disposizione della natura. Grazie. 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 Grazie.